Questa è Diamante di Barbara Maggiolo, è una lampada molto particolare perché ha tantissima materia, vediamo anche molto spessore e soprattutto non viene realizzata con uno stampo chiuso, ma con una specie di griglia che crea queste righe. La particolarità è che viene lavorata molto, vedete il movimento di polso del maestro che la lavora molto perché essendo molta massa, essendo caldissima ovviamente a temperatura di incandescenza, di magma, deve essere lavorata continuamente per una questione di gravità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!